E' sempre accanto a te, se piangi e non sai che cosa farà Gesù sarà la forza della tua vita, è l'uomo con cui affronti la salita Stringigli la mano, vuol vivere con te, il tuo rifugio è il Cristo in salvato Il tuo rifugio è il Cristo in salvato Passiamo i nostri capi, vogliamo metterci in preghiera prima di lasciare questo luogo Vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo che la Sua parola abbia trovato luogo in qualche cuore Per portare liberazione, guarigione e salvezza